Arrivi, ti alzi la mattina, un minuto di doccia fredda, così. Immaginati per me che soffro il freddo. Che brutto! Poi sei magro, mi sa che lo soffro... Lo sento proprio il freddo che entra dentro. Quello, la respirazione, però dopo un po', devo dire, comincia ad abituarti. Sono sempre fermo alla quarta settimana di sto corso che ho comprato online. Non so, da un anno sono fermo. Perché alla quarta settimana devi fare dieci minuti di doccia fredda. Stai lì dieci minuti, una volta alla settimana. Però ti abitui comunque. Sì, un po' ti abitui, però è fredda. E poi immagino che dopo ci sarà l'immersione, capito, nell'acqua... È mai fatta la... Nella vasca del ghiaccio. Quando ci alleniamo a Formia c'è la vasca del ghiaccio. Quella lì è assassina proprio. C'è proprio assassina. Cioè io più di una decina di secondi dentro non ci sto perché proprio ti... Non senti più il cervello. Però scusami, ma voi avete anche fatto le crioterapie anche? Quella sì, però è diversa secondo me. È un altro tipo di freddo. Perché poi hai i piedi in una specie di calzone. Ok. Di calzino gigante. Io quello che fattisco di più è il freddo nei piedi e nelle mani. Le mani mi sembra che ce le hai fuori forse. E tu continui a muoverti. Però è un freddo secco. Cioè non è umido, non è il bagnato della doccia che secondo me è peggio. È peggio. Poi esci da lì che sei rigenerato. L'hai mai fatta la crioterapia? Non ho mai fatto la crioterapia. È bellissima. È vero, è proprio bella. Perché effettivamente ormai tutti gli atleti, ho visto anche Lorenzo Giovanotti quando faceva il tour, ha detto sì sì, mi immergo. Eh, esatto. Ma anche per una questione penso anche alle donne anziane, fa bene la circolazione, quelle cose lì. Però questa è una fucilata, mi sa fare anche tutti quei trattamenti lì. Ma è tu finito, se fai una gara poi ti immergi nell'acqua fredda? Nell'acqua fredda. Sì, perché in giro è difficile che trovi la crioterapia. Ma alla fine, cioè come default tu? Sì, nel pomeriggio in un torrente o quello che trovi. Prendi e vai dentro? Sì, ogni tanto lo faccio, sì. E stai dentro per? Eh, un po' però. No, ma fai solo gambe. Ah, ok. Sì, la pancia no, voglio dire. Però è bello perché poi sei proprio fresco. Ti riprendi. Io smetterei di fare gare se non dicesse alla fine devi infilarti. Sì, no, ma non è che lo faccio sempre. Cioè se fa freddo, freddo no, non lo faccio. Però a volte abbiamo riempito la vasca da bagno di neve, acqua e l'abbiamo fatto. È bello. Perché dopo un po' se tu non ti rigeneri come fai a competere, no? No, va bene. Per rigenerarti fai freddo e poi massaggi. Puoi fare caldo freddo, finendo sempre col freddo, oppure i massaggi drenanti che aiutano a smaltire un po' la stanchezza. Non l'acido lattico, perché in realtà l'acido lattico è una fantasia che quando hai male alle gambe è l'acido lattico, in realtà non è l'acido lattico. Ah, e che cos'è? Il male che hai sono i doms, sono i muscoli che praticamente si sono rotte le fibre e si stanno ricostruendo. Quando hai i tuoi male dopo che hai fatto sport è quello, non è l'acido lattico. L'acido lattico si smaltisce dopo pochi minuti che hai fatto l'attività, quindi il male non è l'acido lattico. Ma e tu fai, adesso vedo tutti i rulloni, tutti che si rullano in continuazione. Bellissimo. Prima e dopo l'allenamento. Fai prima e dopo l'allenamento? Sì, il foam roll si chiama. Foam roll. O se no ci sono quelle specie di pistole che vibrano, che si spara tutto. L'ho comprata. L'hai provata? Sì, a parte che avevo una spalla e quindi mi sono cominciato a trapanare con sta tetra, non so si chiama, c'è il nome, non mi ricordo come si chiama. C'è il Teraghan. Teraghan. C'ha vari nomi, ce ne sono vari. E ho cominciato a pistolettare, la cosa più fastidiosa era il rumore, un rumore pazzesco e poi poi pericoloso, perché dopo un po' ero lì che mi sono incasinato. Poi c'è tutte le varie intensità. I pistolotti che gli metti sopra con le varie forme, non so. Però quando hai bisogno di massaggiare le gambe, quello lì è una figata, bellissimo. Ecco, vedi? Sì. Lo proverò. Io ho preso, al momento sto, vabbè, andando ormai nella vecchiaia più totale, capito? Quanti anni hai tu? 47. Ho preso. Ho preso o meno? 46. 44. Praticamente ho preso, ho iniziato a fare stretching, un sacco di stretching, mobilità, mi sono intrippato con questo Ido Portal, non so se lo conosci. È un israeliano che ha questa teoria del movimento. Per dire, l'altro giorno a Brighton nel parco ho visto uno che correva a piedi nudi e si è, ha fatto squat, quindi stava giù in posizione. Sì. Cioè non squat per far pesi ma giù completamente accovacciato. E poi si appendeva agli alberi. Si allungava. Sì, diciamo, la sua teoria è che devi sempre allungare. Era quello che allenava anche Conor McGregor un periodo, insomma è uno che ha tutte queste teorie di movimento. Io mi sono intrippato con questa roba, poi ho preso un foam rollone che dove mi rullò. Questo Tera Gun che però non uso quasi mai perché se non mi assorda, quindi sono sempre alla ricerca di qualcosa per evitare. E la mobilità la fai la mattina? In questo momento faccio, 5 e mezza mi alzo, faccio un'ora di stretching. Tutti giorni alle 5 e mezza ti alzi? In genere, poi magari saluto e domenica dormicchio. Dipende anche dai bambini, dai bambini piccoli a volte dici sì sì, domattina vado e poi sei distrutto. E poi sei morto. Però a 5 e mezza mi alzo faccio un'ora di stretching, faccio la mia routine, faccio stretching e mobilità. C'ho un paio di canali YouTube che seguo con uno che fa tutto calisthenics, yoga, calisthenics. Ma ti appendi, fai tutte le squadre, tutte le… No, faccio a corpo libro, faccio stretching, appunto mi scuoto, apro braccia, gambe. Poi questo va su in verticale, sulle maniche io non sono capace. Fa tutte cose così. Fa bene comunque farla la mattina presto. È vero, eh? Sì sì, ti dà proprio una botta di vita la mattina. A me ha cambiato tutto. Ti ripiglia, sì sì sì, anche io. Quando lo faccio, non lo faccio sempre perché a volte quando sei in ghiacciaio così, che già devi alzarti presto per andare… In ghiacciaio, solo la parola mi hai fatto perché mamma mia ghiacciaio… Quando devi alzarti presto per prenderla a funivia e poi farti le ore di coda, tanto vale che la fai su in cima la mobilità perché se no non serve a niente. Però no, ti rigenera proprio. Dimmi la tua giornata tipo fuori dalle gare, quando ti stai allenando, e durante le gare. Vai. Allora… Tanto qua c'è un caffettino. D'estate, quando faccio la preparazione, mi alzo, faccio un po' di mobilità, colazione, poi vado in palestra o a fare allenamento di atletica o in bici, in base a quello che devo fare, pranzo per forza dalla nonna, io sempre, tutti i giorni dalla nonna mangio, sai esattamente cosa devo mangiare. Ok. Infatti prima di andare in palestra la chiamo e gli dico, ciao nonna, oggi un eto, 80 grammi di pasta, poi carne bianca, va bene, va bene, tutto pronto, a che ora arrivi, un'è e mezza arrivo. È un mito. Anche io vogliono la tua nonna mangiare. Perché non è il classico pranzo dalla nonna, tutto bello unto, no, è proprio, è bravissima. Scusa, per cui tua nonna è il tuo chef? È il mio chef. Perfetto. A pranzo sì, è il mio chef, poi mi riposo di solito dopo pranzo, faccio un paio d'ore di riposo, dormo, mi rilasso, leggo, magari cazzeggio col cane. Ok. Si può dire cazzeggio. Puoi, assolutamente, che cane hai? Ho un barboncino. Ah, ok. Sì, io lo adoro, si chiama Rocco. Nero, bianco? Tipo beige, così. Ok, ok. All'inizio era scuro, poi dopo si è schiarito, all'inizio, non so come mai. Perché stando sempre in montagna ha preso... Poi a un certo punto pensavo di aver comprato un lagotto perché stava diventando sempre più grande, poi si è fermato per fortuna. Perché io ho un labrador. È grosso. Ok, scusa, tu hai detto Romero mi ha distratto col barboncino. Dopodiché, riposino. Sì, e poi se ho la seconda sessione di allenamento faccio quella o se no dipende, vado a farmi un giro, dipende un po'. Questo d'estate. Poi vabbè, la sera faccio da mangiare e basta. Netflix. Netflix, bravo. Allenamento, quanto è dedicato alla parte tecnica e quanto invece pompi fisicamente durante la settimana? Allora, quest'anno ho fatto dei bei cambiamenti a livello di preparazione perché prima era tanto pompare, tanto, però questa cosa mi aveva un po' rallentato anche a livello di gambe, di reattività così. Quest'anno ho cercato, ho cambiato preparatore, ho fatto molti più lavori specifici per lo snowboard a livello di percezione dei piedi, proprio eccettive, equilibrio, rapidità, imparare a saper muovere il proprio corpo a pezzi per poi riuscire a rimettere questi pezzi insieme e funzionare poi meglio sullo snowboard. Lo snowboard sembra uno sport qualsiasi, però alla fine, come tutti gli sport, ha bisogno dei suoi vari pezzi. E tu sei sempre praticamente, sei sempre in squat quando fai snowboard, praticamente? Quasi sempre, sì, in quella posizione lì. Infatti noi siamo tutti abbastanza asimmetrici perché andando sempre in una direzione il nostro corpo si adatta, infatti io il busto lo giro più a destra rispetto che a sinistra perché sono gufi avanti destra. Tu mi hai fatto snowboard. Ho imparato a sciare quest'anno per la prima volta, la mia dolce metà mi ha portato in montagna e ha detto non è possibile, perché ai tempi giocando a ping pong di professione non potevo andare a sciare per gli infortuni, così era previsto. E gli è piaciuto? Tantissimo, sono negato, così, a spazzaneve, fiano fiano, vai, vai, però mi piace, però snowboard mi è sembrato molto difficile, quindi mi hanno detto aspetta guarda non sai neanche sciare. No, ma in realtà non è così, cioè secondo me, se sei già un po' a sciare non è così impossibile. Ok, ok. Una cosa che mi ha colpito, l'altro giorno ho visto un'intervista e poi voglio sapere la tua giornata invece non è stiva, ma ho visto un'intervista a Evander Holyfield che è stato campione del mondo di pugilato un po' di anni fa, quello che aveva vinto con Tyson, quello a cui Tyson ha morso via un orecchio nel combattimento. Una bestia gigante. E lui diceva due cose molto interessanti, numero uno che ai suoi tempi c'era la teoria che fare pesi in palestra fosse negativo per gli atleti, non si facevano pesi perché era visto come poi sei pesante non puoi più muoverti, quindi pensa a quanto è cambiato la preparazione. E poi lui diceva che andava a fare questi corsi di ballo per muoversi con, ovviamente non lo diceva ai suoi in palestra perché se no un pugile che faceva in quel momento ballo non era visto bene, però è incredibile come anche ho visto Serena Williams fa attività che sono completamente scollegate. Che diresti questa cosa non c'entra niente. E tu fai anche qualcosa del genere? Ma penso che il ballo no, sono negata, però secondo me mi farebbe bene perché comunque impari a fare certi movimenti, a coordinarti e secondo me qualcosa sicuramente fa, comunque imparare a saper muovere il proprio corpo, a coordinarsi è importantissimo in tutti gli sport, se fai sempre e solo il tuo sport a un certo punto non migliori più, infatti bisogna sapersi inventare un po' di cose diverse. I pesi io li ho fatti, li faccio, adesso ne faccio un po' meno, per due anni ho fatto un sacco di pesistica, tanta tanta e adesso mi aveva anche un po' rotto le balle, però è bello anche quello, provare nuovi sport, impari a lavorare bene. Diversi movimenti, ho visto ad esempio Federer prima di giocare a tennis ha fatto una marea di sport diversi, ti abitui proprio a avere una spazialità, un controllo del corpo nello spazio diverso, ad esempio tornando indietro io farei un sacco di trampolino. Sì, acrobatica, poi anche divertente. Per vedere come stai in tante posizioni. Ok, giornata invece quando sei pre-gara, come funziona? Ma allora, pre-gara diciamo che la nostra gara si divide in tre giorni, abbiamo i giorni di prova della pista di snowboard cross, sai cos'è lo snowboard cross? Ho visto la gara con cui hai vinto uno dei tuoi miliardi di ori, dove ti butti giù con un sacco di gente incazzata nera che vuole solo superarti. Mamma mia, un'angoscia mi ha messo, guarda, io che ho paura, ma un'angoscia mi ha messo, ok, sì. Allora, si divide in tre giorni, c'è il giorno di training in cui tutti gli atleti provano la pista per un tot di tempo. Singularmente o insieme? Come vuoi. Ok. Come vuoi, puoi andare da solo, puoi andare con qualcuno, puoi metterti in coda a qualcuno. Poi ci sono i giorni di qualifiche che funzionano come le auto, cioè ti prendono il tempo. Ok. Anche qua da solo? Da solo. Da solo, quindi il più veloce si piazza prima quando parte. Esatto, praticamente il più veloce sceglie in quale cancelletto mettersi quando è la sua batteria, cioè se arrivi prima in qualifica e la gara è a quattro, tu gareggerai insieme al sedicesimo, all'ottavo e al nono in qualifica. Ok. Poi il secondo sarà insieme al settimo, al decimo, al quindicesimo e così via. Ok, gironi per poi avere. Esatto. E quanti sono che giocano, che vanno giù per la finale? In finale finale ne arrivano solo quattro. Quattro, ok. Quindi devi passare quarti di finale, semifinale e finale, se sei nelle donne. Negli uomini di solito c'è un giro in più, ci sono gli ottavi di finale perché sono sempre un po' di più. Ok. E poi in finale te la giochi. Ok. E durante il pre-gara quindi come ti organizzi? Ma allora, il pre-gara è sempre abbastanza importante. Io cerco sempre di rilassarmi il più possibile, soprattutto i giorni prima delle gare, di allenarmi ma non troppo, di andare al fisioterapista e così. Se la mattina facciamo allenamento, facciamo training, quelle qualifiche, il pomeriggio o magari faccio un richiamo di velocità, poi vado dal fisioterapista, mi faccio coccolare un po', mi faccio trattare se ho qualche dolore. Sì, a volte più mentale che tutto il resto, per cercare di arrivare alla gara che è tutto a posto, il 100% tu stai bene fisicamente, mentalmente stai bene, quindi magari mi sono fatta anche una call con la psicologa, per arrivare alla mattina che sei centrato. E lascia andare a quel punto. Eh, se va bene sì, se no a volte è un po' più difficile, però comunque ogni gara ha la sua storia. Sai che vedendo, non mi ricordo quale fosse, quale oro fosse insomma, credo 2018 forse. Sì, quando ho vinto a Pianciani le Olimpiadi. Le Olimpiadi, 2018. Quando vedi la gara e uno guarda che arrivi, venite giù, c'è una quantità di gradienti di difficoltà in quello che fai che ho trovato impressionante, perché hai la competizione degli altri che sono attaccati, appiccicati, e già quello mi mette paura. Poi hai tutta la parte di sal, che continua a saltare in continuazione. Poi devi andare giù per un percorso, quindi devi andare veloce. È qualche cosa di molto, di brutale. L'ho trovato brutale perché... Impegnativo. Sai, se tu sei macchina per dire, cioè comunque c'è una macchina che protegge me e protegge te, no? Invece qui è... Sì, non c'è protezione, insomma. Eh, diciamo che... Ma tu puoi toccare l'altro, dagli un... Allora... O ufficialmente non si può, invece. No, allora, ci si può toccare nel senso che comunque capitano i contatti. Ok. Capitano. Ci sono delle regole in cui io non posso spingerti, non posso tirarti. Mi è capitato una volta di essere dietro un'avversaria, arrivare in scia molto più veloce, non aver spazio di passare né a destra né a sinistra. E l'hai presa in pieno? No, gli ho messo le mani sul sedere, l'ho spinta avanti. E quello si può fare, perché comunque io mi svantaggio, però lei non recodano. Cioè l'ho accompagnata avanti in modo tale da non finirle addosso. A volte capita che devi allargare un po' le braccia per evitare comunque che uno ti stia troppo addosso. Ci sono dei limiti, a volte fanno delle squalifiche, a volte no. Comunque capitano dei bei contatti, sì. Wow. Quanto ci si mette a imparare andare sullo snowboard per arrivare a livelli alti, comunque per poter competere? È qualcosa che uno impara rapidamente o è un'arte che si impara in una vita? Dal punto di vista del saper gareggiare contro altri avversari insieme, contemporaneamente, secondo me questa è una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai. Sì, perché io ho iniziato a fare Coppa del Mondo a 17 anni e le mie rivali ne avevano anche più di 30 e a me non me ne fregava niente. Ok. Cioè io mi facevo spazio, cercavo il mio spazio e non c'era problemi. C'è chi si fa problemi e dice sono in batteria con una forte e me ne sto dietro. Tranquillo. E quello secondo me è una cosa che hai o non hai. Invece essere competitivi a livello tecnico ci lavori. Quali sono le caratteristiche principali che secondo te un atleta deve avere, un campione di snowboard deve avere oggi? Testa, primo. Ok. Quella fa secondo me l'80%. E fisicamente devi saperti adattare a tutti i tipi di pista, devi essere scorrevole, cosa che, anche lì è un'altra cosa che non tutti riescono ad essere scorrevoli. Non dipende tanto dalla tavola ma dipende dal piede che uno ha e da quanto riesce a tenere la tavola piatta sulla neve e a farla scorrere sulla neve. Quando dici diversi tipi di pista? Perché allora ad esempio la pista delle Olimpiadi era gigantesca, i salti erano giganteschi e a me piaceva da morire. Le piste di Coppa del Mondo tendono ad essere un po' più piccole perché i budget sono ridotti e di conseguenza costruire una pista così grande costerebbe di più. Quindi sono un po' più piccole e un po' più facili, tra virgolette, però secondo me meno divertenti. Quello diciamo sono le differenze principali. Poi magari in alcune piste sono più lunghe o magari ci sono più salti o più cose tecniche come le star section che io non sopporto. Che cosa sono? Praticamente sono i primi 4-5 secondi di pista dove è abbastanza in piano con strutture molto su e giù dove devi essere abbastanza un gatto di gambe. Io su questo ho patito negli ultimi anni ed è una cosa su cui sto lavorando tantissimo. E queste sono più o meno le differenze. Però diciamo che se prendi i vari atleti di snowboard, di snowboard cross, c'è quella smilza magra, magretta, che è un grillo in partenza da quella che pesa 80 kg, che però poi in scorrimento ti prende. Io cerco di stare a metà, di adattarmi un po' a tutto. E c'è qualcuno nello snowboard che è considerato storicamente il Federer, la leggenda dello snowboard, uomo o donna? C'è qualcuno? Va bene, nel freestyle c'è Sean White, il pomodoro volante, i capelli rossi. Il pomodoro volante. Lui ha vinto tre ori e comunque da quando aveva 18 anni a Pyeongchang, che comunque adesso penso che ne avesse un bel po' di più, nel freestyle diciamo che quelli giovani sono quelli più forti, però nonostante, perché comunque sono più mobili, se cadono si fanno meno male, perché le cartelle che prendi a 16 anni a 25-30 le senti molto di più. Lui però comunque è riuscito ad essere sempre competitivo, nell'half pipe ha fatto delle cose pazzesche. Half pipe che cosa? È una disciplina del freestyle, dove corrono in questo mezzo tubo, ok? Che è lungo così, tutto uguale, tutto così, loro saltano da una parte. Come fosse lo skateboard. Esatto, uguale, è la stessa cosa. Poi c'è lo slope style, che sono salti, rail, poi c'è il big air, che è un salto unico, gigantesco, dove fanno un'acrobazia. E nel freestyle secondo me è lui, è quello che si conosce di più. Nel cross secondo me quello che ho conosciuto di più è Pierre Voltier, che è un francese che ha vinto le ultime due olimpiadi. Però vabbè, se ti dico questo nome non è così. No, te lo chiedo per sapere chi saranno i miei avversari nel momento in cui inizio a competere. Esatto, grazie. Voglio sapere con chi mi devo scontrare. Allora, anche gli italiani. Vado subito, capito, sul top così per cimentarmi. E il rapporto con le avversarie, com'è? Cioè è un rapporto, ogni sport ho visto, parlando da Federica Pellegrini a tutti i vari sportivi, è strano vedere come ogni sport ha le sue etiche di rapporto con gli avversari. Ci sono sport più violenti dove, capito, nel ping pong tu ti urli in faccia, quando fai un punto urli in faccia a uno. All'altro. Che dici, ma perché succede, perché è così, capito? Cioè è accettato, no? Sì, sì, sì. Nel tennis non è così, che vedi Nadal, sì, si carica lui ma non è che va lì e gli urla in faccia, capito, all'avversario. Per cui è curioso. E che rapporto c'è con le avversarie? Ma allora... Educato? Sì. Dici ti spacco, adesso scendo, ti massacro. Beh, ci sono alcune avversarie che ti vengono, hai proprio voglia di spaccargli la faccia. E adesso diremo i nomi, ecco io. Sì, perché comunque, cioè a volte sembra proprio che se la tirano e si meriterebbero veramente degli pugni in faccia, però non si fa. Anche se in realtà ci sono capitate delle mezze risse, più negli uomini. Poi si sa, ad esempio, gli americani sono un po' più gasati, un po' più rissosi. Però io in generale cerco di andare d'accordo abbastanza con tutti. Anzi, sono anche andata in vacanza con una mia avversaria. Quindi comunque ci sono anche amicizie, cioè è anche bello comunque, alla fine noi siamo un piccolo mondo e non avrebbe senso litigare o crearsi nemicizie. È anche bello andare d'accordo, darsi dei consigli, chiedere consigli. Comunque magari ad un avversario che quell'anno è nata forte gli chiedi ma cos'è che hai fatto per andare così forte. Bisogna anche essere onesti comunque e chiedere, cioè non c'è niente di male. E quindi è un bel mondo, secondo me, siamo tutti abbastanza uniti. Quella tensione però quando sei lì ai cancelletti… Eh, poi quando sei il cancelletto possono morire tutti. Cioè, al cancelletto… Come gestisci quella tensione? Perché io mi ricordo quando, ai tempi di Tomba, no, Alberto Tomba, che ai tempi era così, nello sci ha trascinato, no, l'Italia, tutti erano impallinati con lo sci perché c'era Tomba. Quando era lì per partire ti sudava le mani, c'era, ma come fa a gestire quella pressione lì che si gioca in un secondo. Quali sono le tue tecniche per gestire quel momento che così complesso? Quale è il momento più importante? Io diciamo che ci ho lavorato tanto nel corso degli anni. Da piccola avevo quest'ansia quando ero lì al cancelletto e spesso facevo delle grandi cavolate perché l'ansia era troppa e sbagliavi. Adesso ho imparato a gestire, cercare di sfruttare quell'ansia lì, la canalizzi proprio per migliorare la tua prestazione. Io, ad esempio, quando mi accorgo che sono troppo agitata, devo cercare di scaricarla e di non concentrarmi tanto sull'ansia ma sul fare, cioè sulla pista, su pensare ai vari passaggi della pista, dove superare quel salto come farlo, quelle gobbe come ammortizzarle. Quindi concentrarmi sulle cose che devo fare per evitare di agitarmi troppo. E devo stare sul razionale, cioè non iniziare a dire adesso che cosa succede, se quella... Devo cercare di concentrarmi su queste cose e quando ce la faccio, arrivo al cancelletto e sono totalmente centrata su di me. Non mi importa chi ho a fianco, se è una campionessa olimpica o mondiale. Io sono lì per me e voglio, diciamo, far divertire chi mi guarda. Cioè io alle Olimpiadi, quando era il cancelletto, pensavo adesso parto e voglio far divertire chi mi sta guardando, voglio farli emozionare. Mia mamma e mia sorella sono giù all'arrivo e voglio che si divertano a guardare la mia gara. E a me questa cosa mi gasa tantissimo e io quando sto così riesco proprio ad andare al 100%. E hai dei rituali, delle parole chiave o parlando, dicevi prima con la psicologa sportiva, hai, diciamo, messo a punto delle routine che ti aiutano a entrare in questo stato di... Flow si chiama. Di flow e di concentrazione. Beh, la prima cosa per me è cercare di avere tutto il materiale a posto, non dimenticare maschere, non dimenticare scarponi, cosa che ho fatto, il pettorale. Cioè comunque non avere... Distrazioni. Esatto, sì, o degli imprevisti, cercare di tenere tutto sotto controllo. Anche le varie lenti per il meteo, cioè devo avere tutto. E già questo è una sicurezza. Non ho dei rituali comunque. L'unica cosa che ho da sempre è il casco nero e giallo. Il giallo da piccolo era il mio colore preferito, poi il primo anno di Coppa del Mondo mi hanno dato questo casco nero e giallo e da lì è rimasto così, perché l'unico anno che non l'ho avuto nero e giallo mi sono spaccata il ginocchio. Quindi da lì è dovuto rimanere nero e giallo. Però altri rituali, no, perché cerco sempre di... solo di concentrarmi su di me anche perché secondo me avere magari l'oggetto scaramantico, troppe cose, troppe scaramanzette ti fanno deviare. Lo vedi ogni tanto tennis, cioè Nadal che ha mille manie, la riga, la bottiglietta, cioè è sempre... Però lui funziona così. Lui funziona perché lui ha quella modalità anche di imaginare. Ognuno è fatto in maniera diversa, sì, sì, sì. Infortunio, però hai fatto un miracolo, cioè passare dall'infortunio poi a vincere un oro, insomma... Beh, sono passati quattro anni comunque. Però è lo stesso, sai, non è facile mentalmente anche pensare, ok, sarò al 100%, sì, no, magari è quel minimo di paura in più o attenzione in più che magari ti poni, quindi insomma non è una cosa semplice. Come l'hai gestito? Allora, io mi sono fatta male, avevo 18 anni, ero in piedi soci e a 18 anni non stai tanto a pensare, Madonna, mi sono fatta male, non riuscirò più a tornare, cioè magari c'è chi ci pensa, io non ci ho mai pensato, ero abbastanza una ragazza impetuosa che voleva far snowboard, divertirsi, cioè non mi interessava tanto di essermi fatta male, anzi ho sfruttato quel momento, mi sono resa conto che dovevo diventare più atleta, non solo snowboarder, ma più atleta, perché fino ad allora comunque mi allenavo ma solo in tavola, cioè la preparazione fisica ce n'era gran poca, anche perché comunque ero giovane, non ero mai stata impostata bene. E l'infortunio l'hai avuto in pista o fuori? Sì, in finale, in finale alle Olimpiadi di soci, praticamente ero, mi viene da ridere perché ero una ragazzina, ero la più giovane in finale, ero quarta all'ultima curva, ho superato quella che era terza e quella curva praticamente era una curva tagliata, cioè praticamente finiva, saltavi in quella curva e nell'uscire dalla curva per approcciare questo salto, io e quella che ho superato, che quindi era diventata quarta, ci siamo toccate e siamo cadute giù da questo salto e io lì mi sono rotta il ginocchio. Quindi io per una frazione di secondo mi sono vista terza e quel momento non me lo dimenticherò mai quel momento lì perché è stato come un assaggio di quello che potevo veramente valere, però poi è finito quel momento perché mi sono caduta e mi sono rotta. Un male bestia? Sì, però neanche così tanto. Ah, cos'è? No, neanche così tanto. Sì, senti un po' come al momento una fitta nel ginocchio, però poi dopo sì, fa male, male, ma c'è di peggio secondo me. E secondo me ha avuto quell'assaggio lì, mi ha fatto capire, ok, io valgo una finale olimpica, cosa posso fare per tornarci? E allora da lì è iniziato questo percorso, sia anche a livello psicologico, oltre che fisico, con l'obiettivo, sì, ok, di tornare a una finale olimpica, però anche con obiettivi intermedi, di tornare in Coppa del Mondo. Quanto ci hai messo dall'infortunio a tornare in pista, a cominciare? Sei mesi. Sei mesi. Sei mesi perché sono abbastanza necessari un po' per far fissare il legamento nuovo, ce ne vogliono almeno cinque, poi comunque tutta la riabilitazione per ricostruire il muscolo, quindi comunque sei mesi, sì. Quando hai vinto l'oro l'anno scorso a quel punto di essere stata una libidina pazzesca? Eh, lì, cioè, è quasi, è difficile da descrivere perché la gara è stata bellissima, perché io a un certo punto ero terza, ho superato seconda, ho fatto un salto prima e mancava ancora un bel pezzo di pista, però io poi ho preso proprio il largo dalle mie avversarie e in quel momento sapevo di essere prima, ma non pensavo minimamente alla medaglia, cioè la mia psicologa mi diceva non pensare alla medaglia perché non ce l'hai al collo e io così ho fatto, cioè, mi concentravo solo su quello che dovevo fare e infatti è andata bene e quando atterro dall'ultimo salto, mi giro intorno, visto che c'ero io, ho iniziato a esultare, ancora prima in Italia le traguardo, cioè, proprio all'italiana, e però è stato sicuramente il momento più bello della mia carriera, poi aver lì mia mamma, mia sorella. Ci sarà stata anche tua nonna che cucinava? No, era a casa, era a casa. Era a casa cucinare il post? Esatto, il post, sì. No, però è difficile descrivere un momento così. È più bello quando tagli il traguardo o quando poi sei sul podio e a quel punto c'è la prima azione con l'inno? Quando tagli il traguardo. Quando tagli il traguardo. Perché anche comunque il podio quando c'è… Anche il podio, sì, soprattutto il podio, non la cerimonia dei fiori che la fanno all'arrivo, appena finisce la gara, comunque ti fanno salire sul podio e ti danno… Adesso invece dei fiori danno un pupazzetto e alla sera c'è stata la cerimonia ufficiale nella Medal Plaza così e lì è stato… mi è capitato di rivedere il video e mi viene ancora la pelle d'oca, cantare l'inno italiano, vedere la bandiera che sale tutta la squadra mia lì sotto, la mia famiglia così e è una cosa che per un atleta è il massimo, cioè raggiungi proprio il top, più di così puoi vincere un'altra, cioè… Certo, continuare, perché fermarsi, no? Esatto, continuare, sì. Quando vinci una medaglia olimpica, me lo sono sempre chiesto, che cosa succede? Cioè, non so, ti chiama il Presidente della Repubblica e dice… No, Presidente della Repubblica no. Ti mandano la lettera, ti convocano… Ti convocano, sì, va, iniziano le menate. Che cosa succede? Cioè… Iniziano vari eventi, iconi, poi l'esercito, perché io sono atleta dell'esercito, poi magari Presidente del Consiglio, tutte le varie cose, tutti i vari eventi, premiazioni varie e quello è abbastanza pesante, però è bello perché comunque sono, cioè, sono belle, sono dei bei riconoscimenti, quello quando comunque torni in Italia. Vai lì, ti danno la medaglietta, strette di mano, fotografie, un po' di pila, così non lo chiedo, cioè, due lire le daranno… Sì, no, iconi, ci sono i vari premi per le varie medaglie olimpiche, però, vabbè, meno male che c'è quello, perché io sinceramente ho detto, buono, ho vinto le Olimpiadi, chissà quanti sponsor che mi arrivano. Arriveranno tutti la fila. Invece non è proprio così, non è così facile, soprattutto per uno sport piccolo come il mio, mi sarei aspettata qualcosa di più, in realtà, sì, qualcosa è arrivato, ma poco, però ti dico la verità, va bene così, perché alla fine se lo facessi per quello non avrei neanche… avrei fatto un altro sport, io lo faccio perché fin da piccola, fin da quando avevo otto anni facevo snowboard, sognavo di diventare brava, forte, di vincere, mai avrei pensato di diventare la prima italiana a vincere un'ora alle Olimpiadi. God! Cioè, questo non ha prezzo. No, non ha prezzo, non ha prezzo. Cioè, la medaglia che ho a casa non ha prezzo. Cioè, non… Sai qua, la cosa incredibile, forse ne parlavamo l'altro giorno, se tu sei abituato a fare uno sport minore, e sport minori è tutto tranne ormai il calcio, basket, però, insomma, sport minori. Io giocavo a ping pong per la… non erano i soldi, non c'era niente, però per quella medaglietta lì, lo scudettino, per me quello valeva qualunque cosa. L'altro giorno ne parlavo perché una volta che sono entrato in classifica mondiale ed ero, capito, uno dei peggiori, cioè non è che fossi… ero proprio uno dei più ridicoli dei giocatori, cioè io ero festeggiato come se avessi vinto, ecco, loro… Quello non ha prezzo. Non ha prezzo. Non ha prezzo. Cioè, nessuno sponsor ti può dare un compenso economico paragonabile, non c'è, non c'è proprio… È proprio una vocazione diversa. E tu l'hai capito subito, cioè, sin da bambina per te era chiara questa cosa, dicevi io sono sullo snowboard, that's it. Ma allora, si è formata nel tempo, secondo me, però io da piccola dentro di me sentivo che potevo diventare forte in qualcosa, non era ancora sicura di cosa, però che volevo primeggiare, cioè io qualsiasi cosa facevo volevo essere la prima anche a giocare a scopa a carte o a qualsiasi gioco, io se non vincevo anche da piccola mi incazzavo, piangevo, tiravo giù la casa, e quindi questa cosa secondo me l'ho avuta sempre un po' nel sangue. I tuoi ti hanno portato… Sì, loro mi hanno portato prima a sciare e poi in tavola. E loro hanno un pregresso da sportivi? Ma mia mamma ha fatto qualche gara, ma poco. Ok. Mio papà è tutto tranne che far gare perché si agita come… si agita tanto. Io praticamente, è andata così, io andavo a sciare la domenica, sabato la domenica con la mia famiglia a Colere, che è un piccolo paesino in Val Seriana, da dove arrivo io, e avevo circa 11 anni e lì si allenava una squadretta di snowboard e il presidente mi vedeva sempre sfrecciare su queste piste e un giorno dalla seggiovia mi urla e mi dice «Ragazzina, vieni a allenarti con noi!» e io dico «Va bene, proviamo». All'inizio non mi piaceva tanto, però avevo comunque 11-12 anni, non ci pensavo, però mi divertivo. Poi ho iniziato a fare le prime garette così e poi da lì sono entrato nella squadra regionale, Coppa Europa e poi via. Cioè è partito per caso. Come hai conciliato la parte di studio con la parte di sport? Perché io ricordo la mia professoressa in prima liceo dire «Alzi la mano chi fa sport a livello agonistico». Io ho alzato la mano dicendo «Io e un mio amico facevano nuoto» pensando che fosse una cosa positiva e lei ci ha massacrati, perché dicevo «Ok, voi che il sabato non venite mai perché avete le gare così, dovete studiare tre volte gli altri e non avrete nessun aiuto». Io pensavo invece fosse una cosa positiva. Che ti aiutassero. Zero. E come l'hai gestita la parte? È stata durissima, dura dura. Cioè all'inizio quando ho iniziato a fare un po' di gare dovevo andare a scegliere che liceo fare, c'erano già qualche ski college, però io non volevo trasferirmi, erano comunque in Veneto, comunque lontani. Io sono di Bergamo, volevo stare a casa. E allora mi sono iscritta in una scuola normale, però cercavo di portare avanti entrambe le cose. In quarta superiore ho fatto il mio primo anno di Coppa del Mondo, non so quante assenze ho fatto, al rientro dall'inverno la professoressa di matematica mi ha fatto quattro verifiche in quattro giorni e ho preso quattro due. Questo per far capire l'umanità, cioè neanche quella. Ho fatto veramente fatica. Mentre invece altri professori mi davano una mano. L'anno successivo della quinta c'erano le Olimpiadi di soci e mia mamma mi ha detto Michela, non so quando ti ricapiterà di fare un'Olimpiadi, concentrati su quella e lascia perdere la scuola per quest'anno. Quindi l'anno della quinta mi sono fermata, ho fatto le Olimpiadi, mi sono fatta male. E l'anno dopo ho finito la quinta facendo l'esame da privatista sempre in quella scuola. Quindi comunque ho preso il mio diploma di liceo delle scienze umane, facendo fatica tanta. Però quel percorso per il momento è concluso, perché provare a fare l'università adesso è anche abbastanza impensabile. Cioè è veramente difficile. Però io ho sempre trovato veramente assurdo e ingiusto nei confronti degli atleti l'atteggiamento, poi non tutte le scuole, ci sono magari scuole, professori ottimi, però in generale è sempre questa cosa come, che non calcola diciamo l'intelligenza plurale, perché se uno è un bravo sportivo, un grande sportivo, va premiato in qualche modo, magari sì, matematica non la sa, però ha un altro livello di intelligenza, non lo puoi punire, dovresti trovare negli Stati Uniti c'è questa modalità. Esatto, esatto. Cioè secondo me lo sport ti insegna cose che la scuola non ti può insegnare, cioè imparare a dedicarsi completamente a un obiettivo, lavorare tutti i giorni per cercare di raggiungere anche obiettivi a lungo termine, impari la dedizione, il sacrificio, il sudore, impari a perdere, rialzarti e poi vincere, cioè cose che secondo me la scuola non ti insegna e solo lo sport ti sa dare e un indomani queste cose, ok, magari non sono spendibili come una laurea, però sono spendibili in un altro modo. Sì, dall'altro lato uno avrebbe bisogno di un supporto, capito, per continuare a studiare, per evitare di non rimanere indietro, proprio a livello di conoscenza, di istruzione. Però insomma… Speriamo di crescere in questo, in Italia siamo molto indietro secondo me. E adesso quindi che cosa fai? Che cosa puoi fare? Oltre che cosa c'è? Se Elon Musk ci porta su Marte potresti fare là le Olimpiadi appena siamo, non so, che cosa si può fare? Rivincere le Olimpiadi? Eh, rivincere le Olimpiadi, sì. Ma prossime gare cosa c'è? Mondiali? Coppa del mondo. Ogni due anni, quattro anni? Allora ogni anno c'è la Coppa del mondo, ogni due anni mondiali, è uguale allo sci alpino. Che differenza c'è tra Coppa del mondo e mondiali? La Coppa del mondo è un circuito di varie tappe, dove tu in base a come ti classifichi prendi dei punti e alla fine si assegna la Coppa del mondo. Il mondiale è una gara secca, se vinci quella sei campioni nel mondo e quella c'è ogni due anni. Quest'anno è praticamente un anno buco in cui c'è solo Coppa del mondo e ogni quattro anni c'è le Olimpiadi. Per cui il tuo prossimo obiettivo è vincere tutto quello che c'è nei prossimi quattro anni in sostanza? Eh, magari anche più di quattro, dai. Scusami, ma... Anche perché voglio arrivare al 2026 che abbiamo le Olimpiadi a casa, l'Ivigno. È vero, 2026? Sì, sì. Quello sarà forte. Sì, quello... Spero di arrivare, stare bene e potermela giocare perché comunque avrò 31 anni e non sei vecchio per il mio sport, però inizi un po' a... Però guarda, io ti dico questo, l'età degli sportivi... Sta avanzando tanto. Perché comunque oggi tu guardi, guarda Federer, ha l'età dei datteri e ancora si muove come un grillo perché hai anche più conoscenza, più tecnologia, l'alimentazione, la tecnica, tutto questo è un migliore e quindi in realtà non è più vero come si diceva ai tempi, ecco arrivi a 25, hai finito, non so, i tempi era... Adesso l'età, in tanti sport comunque, non so quanti anni abbia il maratoneta, chi coge che ha fatto la maratona sotto due ore? Madonna. 34, cioè c'ha 34 anni. In quanto corre 10 chilometri, Thomas? Hai visto il video della simulazione di che cosa vuol dire correre la maratona in meno di due ore? Praticamente come sprintare i 100 metri per un essere umano normale, tu vai come andare i 100 metri però per il tempo di una maratona, è una roba fuori dal mondo, però ecco 34 anni, quindi insomma ce n'è, ci sei. Sì, sì, sì. Sarà la prima e quindi stavo pensando anche 34, quindi anch'io potrei arrivare a quell'Olimpiadi lì se inizio oggi avere lo snowboard per i veterani. Ah, snowboard, master. C'è quello dei vecchietti? Sai che non credo nello snowboard. Però magari se lo aggiungessero potrei mettere in piano piano col mio snowboard. Sarà la prima Olimpiadi così invernale in Italia o ne abbiamo già avute in Italia? No, Torino. Ah, Torino. Torino 2006, sì. Ok, ok, ok. A distanza di vent'anni. Ignorante proprio di… però dall'anno scorso che ho fatto questa sciatina ho detto caspita, è bello, sì, sì. Poi vai su, mangi. E poi se provi lo snowboard, quella è la cosa più bella. Quella è la cosa che mi ha convinto, infatti la mia dolce metà è stata molto astuta perché ha detto guarda, prima di sciare facciamo un attimino un saltino su in baita. A vedere il menù. E ho detto calma, fai la sciatina, poi si mangia, mi sembra una cosa carina, no? Ma è meraviglioso, insomma, poi questo contatto, così, montagne. E come scuole invece di snowboard, quali sono i paesi più forti, più avanti, con gli allenatori più pazzeschi, con le tradizioni migliori? Siamo noi italiani o stati unitensi? Diciamo che sicuramente lo snowboard nasce e viene dall'America, comunque i primi più forti sono sempre stati loro, però in Italia ci difendiamo bene. forti, forti, adesso ci sono secondo me i francesi, ma comunque ogni nazione, ogni nazione ha la sua. I materiali invece si stanno evolvendo oppure più o meno è sempre stesse e conta quanto sei bravo? Perché ad esempio nel nuoto, quando sono usciti i costumi fatti in un certo modo, effettivamente faceva la differenza. Oppure, non so, qualunque sport, cioè tennis, quando si è passati dal legno al carbonio. Nello snowboard uguale, i primi anni chi aveva l'innovazione sotto i piedi andava di più, adesso comunque tutti hanno dei materiali che bene o male sono performanti. anche a livello di vestiario si tende sempre a migliorare, a fare dei materiali più aerodinamici, si va in galleria del vento. Io non ci sono mai andata, però comunque quando si testano i caschi, l'aerodinamicità e tutte queste cose si va anche lì e si migliora. Anche quelli comunque fanno la differenza, poca però ne fanno. Il tuo team quante persone ha e di chi hai bisogno? Cioè un professionista, uno snowboarder top level, di chi ha bisogno? La nonna per cucinare e lì ci siamo. A casa la nonna, la famiglia, il preparatore, la psicologa, così. E in squadra abbiamo tre allenatori, perché comunque la pista è lunga e hai bisogno di uno ogni tot che ti dice, che ti dà le informazioni per radio. Poi abbiamo il fisioterapista, il dottore nel caso in cui uno si fa del male, speriamo di no, o magari ha un po' di mal di pancia. Poi ci sono gli schemen, che sono quelli che ti preparano la tavola, sciolina, cera, lamine, sai cosa sono? Sì, sì, sotto per andare. E immagino ci saranno anche lì dei limiti o una regolamentazione su quello che puoi usare. Di scioline? Sì. Ma in realtà nì, nel senso che chi trova il prodotto che funziona va di più. Ah, ok. Sì, sì, sì. E poi c'è il preparatore della squadra e basta. Questo è un team, i compagni di squadra. Simulatori vengono usati oppure no? C'è qualcosa, ma è difficile simulare una discesa di snowboard cross. Ok. Gobbe, curvoni, senza salti, in cui riesci tanto a simulare lo snowboard cross. Ho fatto tutto di gobbe, curve, gobbe, gobbe, curve e lì impari a spingere le discese, accelerare le salite. E io su queste cose mi alleno tanto ed è la cosa che ho trovato più simile in assoluto allo snowboard cross. Peccato che in Italia ce ne siamo pochissime, siamo indietro. Esatto, dove vai a allenarti? Devo prendere la macchina, farmi un'ora e mezza di strada, arrivare all'Ainate a Milano, che c'è una pump track e sto lì tutta la mattina e mi alleno. Però è una menata perché comunque se l'avessi fuori casa sarebbe un'altra cosa. Facciamone costruire una. Eh, bene. Dopo chiamo i costruttori. E all'estero invece vai a allenarti con altre squadre, altri atleti o ci sono magari piste dove uno… Diciamo che siamo molto… I miei allenatori preferiscono stare in casa perché diciamo che essendo in casa ci trattano un po' meglio. Però a me piacerebbe andare all'estero, mi piacerebbe allenarmi di più con gli avversari perché comunque vedendo anche cosa fanno gli altri e come si allenano ti vengono magari nuove idee, nuovi spunti per migliorare. Far sempre le stesse cose, la routine ti porta a non progredire più. E secondo me in questo noi italiani dobbiamo migliorare, ad esempio. Grande, cara. Un bocca al lupo davvero per la prossima. Grazie mille. Per le prossime.